I seguaci Chi erano i giovinianisti? Commento Erano i seguaci di Gioviniano, secolo IV, che dopo aver vissuto nell'ascetismo più rigoroso per qualche tempo, si dà alla vita gaudente. Per giustificare il nuovo tenore di vita, Gioviniano afferma che per i battezzati non esiste nessuna differenza tra i vari gradi di virtù cristiane, purché ogni azione si chiuda con un rendimento di grazie al Signore. Papa Siricio, 390, scomunica i giovinianisti. Teodosio bandisce Gioviniano dalla città di Milano. San Girolamo confuta il libello di Gioviniano, 395. I giovinianisti però continuarono a lungo a fare proseliti anche presso il clero. Perché? Perché l'evoluzione collettiva di quei tempi aveva assoluto bisogno, il che significa che non ne poteva fare a meno, di Gioviniano e dei suoi seguaci.